Le relazioni tra Russia e Turchia si sono già normalizzate, adesso vogliamo costruire fiducia reciproca. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa congiunta a Mosca con Vladimir Putin al termine del vertice bilaterale Russia-Turchia. Nel corso del summit sono stati firmati diversi accordi di cooperazione, dal settore della cultura a quello economico, ed è stata annunciata la creazione di un gasdotto denominato TurkStream. Tra i temi trattati, naturalmente anche quello legato alla crisi siriana. Putin ha sottolineato che il cessato del fuoco concordato ad Astana sostanzialmente regge ed ha avuto parole d'eloggio per l'impegno turco nell'area.